Visita ufficiale del neoassessore regionale alle politiche agricole Fabrizio Nardoni nello stabilimento di Cantine Due Palme a Cellino San Marco. L'assessore, accompagnato dal presidente del Consiglio regionale Onofrio Introna, ha mantenuto così la promessa fatta al presidente Angelo Maci in occasione del Vinitali. L'occasione è stata utile per presentare nel dettaglio le varie fasi di produzione, soprattutto alla luce del recente investimento che ha portato all'avvio del nuovo impianto di imbottigliamento, unico in Puglia, e per affrontare con l'assessore Nardoni e il presidente Introna il rapporto fra innovazione e produzione, fra l'esigenza di coordinare gli interessi degli investitori nell'ambito delle nuove tecnologie e quelle di chi da anni produce tutelando il paesaggio e le sue tradizioni, in vista proprio del convegno che Cantine Due Palme e il Consorzio di tutela del Salisio e Salentino intendono promuovere a metà maggio. L'assessore Nardoni mi diceva, l'ho conosciuto al Vinitali e mi diceva che la prima sua uscita presso una cantina sarebbe stata quella di Due Palme, perché evidentemente riconosce nella nostra azienda un'azienda che appartiene al territorio, ma che appartiene a 1200 soci, per cui rappresenta veramente lo zoccolo duro di quella che è la viticoltura salentina. Abbiamo iniziato con questa cantina che mi sembrava anche giusto venire a conoscere tra le prime, in quanto rappresenta un mercato importante nella nostra regione, per cui oggi iniziamo questo giro. Tra l'altro avevamo anche questo pre-incontro con la cantina Due Palme, stiamo in qualche maniera decidendo di organizzare un momento di confronto per meglio valorizzare le nostre risorse e soprattutto cercare di intervenire sul problema eolico che in questo momento attanaglia questa parte del territorio. Finalmente la produzione vitivinicola, soprattutto la trasformazione in vini di qualità e di eccellenza, è arrivata in ritardo ma per fortuna è arrivata in Puglia. I nostri vini vengono valorizzati qui in Puglia e quindi non sono più utilizzati per tagliare, dare forza e consistenza ai vini di altre regioni d'Italia e d'Europa. Quindi i nostri vini hanno conquistato e stanno sempre più conquistando le tavole degli italiani e degli estimatori del vino in tutto il mondo.